Da ragazza malata di anoressia, terribile malattia cronica che sconvolge il corpo e la mente, ha prodotto ad esempio per tante ragazze in Instagram il social network delle foto per l'eccellenza. Si chiama Megan Jane, ha iniziato a soffrire di primi disturbi legati all'alimentazione all'età di 5 anni, poi a 14 è arrivata a pesare 38 kg e fu diagnosticata la devastante malattia. Megan è stata ricoperata in una clinica e anche in altri ospedali diversi dove durante il suo ultimo ricovero i medici ne erano diagnosticato per l'appunto una sola settimana di vita. A 22 anni oggi la ragazza è riuscita a uscire fuori da quella terribile malattia e riuscita da cogliere dopo un lungo percorso, ha deciso di diventare un esempio per ragazze che si trovano nella sua bellissima situazione. Dopo anni di rotta con il suo peso, ha capito l'importanza della esistenza e della vita, ha riuscito a mangiare e ha raggiunto il peso che per lei oggi rappresenta l'essere bella e lo stare bene con se stessa e con gli altri. Megan si racconta, cerco di mostrare alla gente che gli standard di bellezza spesso sono impossibili i nostri corpi e che spesso non sono i giusti, quindi i corretti requisiti per ottenere la felicità. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque un esempio lampato di una ragazza felice che c'era fatta e riuscita a uscire dal tunnel dell'anoressia ed è riuscita a fare veramente qualcosa di buono per l'esistenza ma che per gli altri. Un saluto e apprezzamento.